Un'alleanza l'abbiamo fatta ed è quella che arriverà al 2023 perché c'era un'emergenza da una parte per il rischio di una crisi economica e dall'altra perché appunto c'era il problema di fermare il derino di potenza di Salvini. Io penso che noi ci fermiamo qui, io penso che Italia Viva nasce proprio per garantire al centro-sinistra di tornare maggioranza visto che con il Partito Democratico non era possibile e che il nostro destino non sia un accordo aumento 5 stelle per tutta la vita. Così come non penso che ci sia un automatismo per il fatto che si è fatto un accordo nazionale sul fatto che si faccia un accordo regionale.